L'alopecia areata è una malattia autoimmune caratterizzata dalla perdita parziale o totale dei capelli e anche dei peli in varie parti del corpo. Oggi abbiamo un nuovo farmaco che è il Ritlecitinib che sta dando risultati veramente importanti. Alcuni vengono presentati anche durante il congresso europeo di dermatologia qui ad Amsterdam, le ADV 2024. Facciamo il punto sulla patologia e su questi nuovi risultati con la dottoressa Michela Starace. Cos'è l'alopecia areata e soprattutto quando è che si parla di alopecia areata severa? L'alopecia areata è una malattia autoimmune, oggi è assolutamente riconosciuta come da un punto di vista autoimmunitario che è scatenata da fattori cosiddetti trigger. Quindi l'individuo, il paziente nasce geneticamente predisposto alla malattia e dopo degli stimoli esterni manifesta la malattia stessa. La malattia si può manifestare in varie forme cliniche, quindi le forme cosiddette inchiazze o le forme totali col coinvolgimento di tutta la testa o universali con il coinvolgimento di tutto il corpo. Ecco, questa è la definizione delle forme severe. Quando cioè il coinvolgimento del cuoio capelluto supera il 50% o quando abbiamo davanti a noi purtroppo le forme totali o universali. Pochi giorni fa il Ritlecitinib ha avuto la rimborsabilità anche per i pazienti italiani. Ecco, in quali pazienti può essere utilizzato e come funziona? Allora, il Ritlecitinib finalmente è il secondo farmaco che è arrivato in Italia, appunto è un GEC di tipo 3 che arriva sulle forme appunto gravi, severe, di alopecia areata. Come tutte le indicazioni oggi secondo l'AIFA, seguendo l'EMA, ovviamente l'indicazione è nelle forme appunto severe che non hanno risposto alla prima scelta terapeutica. Il Ritlecitinib è l'unico farmaco approvato in Italia finalmente rimborsabile per una categoria di pazienti che parte già dai 12 anni. In precedenza, fino a poco tempo fa, potevamo prescrivere questi farmaci solo in adulto, quindi dopo 18 anni. Oggi abbiamo questa possibilità enorme, quindi sia nelle categorie da 12 ai 18 e ovviamente anche negli adulti. Perché è un farmaco innovativo? È un farmaco fantastico che ci sta aiutando tantissimo. È un farmaco ben gestibile anche dal paziente molto giovane. Ovviamente come tutti i farmaci definiti small molecule hanno bisogno di uno screening iniziale prima di poter assumere il farmaco, visto che non ci sono, sono anche pazienti giovani spesso effetti appunto che possono controindicare l'assunzione, a distanza poi di qualche mese vanno ripetuti appunto questi esami per vedere che tutto non porta nessun tipo di disagio al paziente. Questo ormai è riconosciuto in tutti gli studi, anche quelli ormai approvati e recentemente ripubblicati, partendo dal grande studio proprio che si chiama Allegro, che ha confermato i risultati e l'efficacia di questo farmaco utilizzando un fattore, un indice, che è quello più importante in tutti i trial clinici, che è l'indice SALT. Con l'arrivo quindi di un coinvolgimento, il SALT indica la percentuale di cuoio capelluto coinvolto in questo caso e per avere un punto di ricrescita il SALT nei trial del Ritlecidib è del 20, quindi si chiama SALT 20. Si chiamano farmaci innovativi perché hanno completamente innovato anche l'approccio terapeutico di questi pazienti e perché tutti gli GEC inibitori arrivano direttamente sul meccanismo che causa la cascata infiammatoria e che fa nel follicolo della lopecia areata perdere quello che si chiama il privilegio immunitario. Quindi c'è proprio un'inibizione da un punto di vista proprio della cascata infiammatoria e di tutta la parte delle citochine. Ecco l'innovazione è proprio nell'andare direttamente nel sito responsabile della malattia stessa. Ci sono nuovi dati su questa molecola? Questo farmaco appunto grazie alla continua controllo anche degli analisi e durante l'assunzione del farmaco ha dimostrato durante gli studi appunto di efficacia e trial clinica che gli effetti collaterali sono praticamente bassissimi. Il rischio cardiovascolare soprattutto in pazienti giovani è praticamente nullo e invece da un punto di vista come tutti i GEC abbiamo quello che più frequentemente si può trovare ma comunque in una casistica davvero bassa è solamente le malattie infettive quindi le infezioni del tratto respiratorio superiore. Prevalentemente nelle persone già predisposte ad avere queste infezioni possono avere degli episodi un po' più ricorrenti. Per il resto è davvero un farmaco ben tollerato.